Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate, la saga scrittura che è la parola di Dio afferma che la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. Quindi la vita eterna non si può guadagnare, la vita eterna non si merita, in quanto viene donata da Dio. È un dono, è il dono di Dio. A chi è che viene donata la vita eterna? La vita eterna viene donata a chi crede nel Signore Gesù Cristo. Infatti Gesù stesso disse un giorno, chi crede ha vita eterna. Dunque è mediante la fede in Gesù che si ottiene la vita eterna. E altresì infatti è scritto che chi crede nel figliuolo ha vita eterna. Ma che cosa significa credere nel figliuolo? Cosa significa credere in Gesù Cristo? Significa credere che Gesù di Nazareth è il Cristo. che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo significa credere nel figliuolo. In sostanza significa credere nell'Evangelo, nella buona novella. Dunque è per grazia che l'uomo ottiene la vita eterna. Dunque se ti è stato insegnato che la vita eterna Dio la dona a quelli che se la meritano o a quelli che se la comprano, sappi che quello che ti hanno detto è una menzogna, è una falsa dottrina che illude chi la accetta. Perché devi considerare questo, che la salvezza è per grazia, mediante la fede, non è in virtù d'opere. Infatti Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Perché i peccatori non si possono salvare da loro stessi. L'uomo non può salvarsi da se stesso. L'uomo ha bisogno di un salvatore. E l'unico salvatore è Gesù Cristo, il figlio di Dio, che il Padre ha mandato nel mondo, nella pienezza dei tempi, per essere il salvatore del mondo. Questa è la ragione per cui Gesù morì e risuscitò. Per provvedere, mediante la sua morte espiatoria e la sua resurrezione, la salvezza. Finché coloro che credessero in Lui fossero salvati dai loro peccati. Finché fossero giustificati, ottenessero la remissione dei peccati e fossero riconciliati con Dio. Quindi tutto per grazia. Quindi la vita eterna che ricevono coloro che hanno creduto nell'Evangelo non è motivo di vanto personale. Nel senso che colui che ha creduto non è che può dire di essersela meritata la vita eterna, ma può dire solamente di averla ricevuta da Dio gratuitamente e quindi da gloria e rivolge azioni di grazie all'iddio che gli ha donato la vita eterna. Infatti Giovanni, uno dei discepoli di Gesù, che cosa dice nella sua prima epistola? Che ha scritto a dei credenti, naturalmente. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Quindi coloro che credono nell'Evangelo hanno la vita eterna, quindi hanno la certezza che quando moriranno, si dipartiranno dal corpo e andranno ad abitare col Signore nel Regno dei Cieli. Sì, che appunto entreranno in paradiso. Perché questa è la certezza che hanno tutti coloro che hanno la fede, la fede nel figliolo di Dio. Coloro che credono nell'Evangelo, quando muoiono, muoiono nel Signore. Ed è per questo che si dipartono dal corpo e vanno ad abitare col Signore. Però ricordati questo, che coloro che invece rifiutano di credere nell'Evangelo saranno condannati, perché Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Cosa significa? Che chi non avrà creduto muore nei suoi peccati. E dove va? Va all'inferno. Va all'inferno che è un luogo di tormento nel cuore della Terra dove appunto arde il fuoco e dove sono tormentate le anime di coloro che appunto sono morti nei loro peccati. È un luogo terribile, è un luogo orribile dove c'è un fuoco reale e dove c'è un reale tormento che subiscono appunto coloro che vi si trovano. E tu, peccatore, tu che sei sotto il peccato, che stai servendo il peccato sei diretto all'inferno. Quindi vedi quanto è importante credere nel figliolo di Dio. È di suprema importanza perché se rifiuterai di credere nel figliolo non vedrai la vita. Ma l'ira di Dio resterà sopra di te. Ricordati, l'ira di Dio resterà sopra di te e quando morirai per te non ci sarà più alcuna speranza di salvezza perché appunto l'anima tua si dipartirà dal tuo corpo e se ne andrà all'inferno. Quindi io ti ho avvertito non potrai dire che non ti ho avvertito che nessuno ti ha avvertito perché io ti ho avvertito da parte di Dio sulla fine che farai appunto se rifiuterai di credere nell'Evangelo della grazia di Dio. Ah sì, perché l'Evangelo appunto, mediante l'Evangelo ti ho annunziato la grazia di Dio. Sì, il favore immeritato di Dio che Dio mostra appunto a coloro che credono nell'Evangelo. Quindi ravvediti e credi nell'Evangelo della grazia di Dio affinché il Signore abbia misericordia di te. Chi ha orecchi da udire oda.